È sorvegliato a vista il boss Matteo Messina Denaro che ha trascorso le sue prime notti all'Aquila nel carcere Le Costarelle di Preturo. Il mafioso di Castelvetrano è in una cella singola, avrà due ore al giorno di socialità, in gruppi di massimo quattro persone. Potrà avere un colloquio al mese, sempre video sorvegliato di un'ora al massimo. Le telecamere lo registrano costantemente, è assistito da quel che si sa dal legale che è sua nipote. Messina Denaro è sorvegliato da due agenti speciali del gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria che sono addestrati a gestire boss e terroristi. Il boss però riceverà le sue cure in carcere a un tumore, saranno necessarie le chemioterapie. La ASL dell'Aquila ha già predisposto il protocollo che si utilizza in questi casi. È in allestimento infatti nel carcere una stanza per la chemio in cui non avrà contatti con altri detenuti. Ieri il boss è stato visitato dal team di oncologi del reparto di oncologia del San Salvatore, diretto dal primario Luciano Mutti da una settimana, direttore dell'unità operativa. Il medico ha dichiarato che nonostante il tumore le sue condizioni sono compatibili con il carcere e dunque per ora non c'è necessità di ospedalizzazione. Non sono previsti infatti per lui spostamenti nel nosocomio. Già questa mattina c'è stato un consulto medico, abbiamo fatto una riunione con le persone responsabili per seguire la parte clinica del detenuto e sta provvedendo già al bisogno dei casi. Il carcere dell'Aquila è un carcere particolarmente efficiente, ha un circuito particolare del 41 bis dove sono uno dei pochi carceri italiani che ha anche la sezione femminile. Il carcere dell'Aquila di Costarelle ha subito, prontamente attivato tutte le necessarie attenzioni per seguire il detenuto. Il carcere dell'Aquila ha una sezione con annesso area infermieristica perché per i nuovi provvedimenti dell'accedo ogni istituto di 41 bis è stato attivato delle procedure, procedure atte a garantire il diritto alla salute come normato dalla Costituzione dell'articolo 27. Si parla anche di una presenza solo di passaggio all'Aquila, il boss potrebbe essere trasferito altrove. Il carcere dell'Aquila non è nuovo alla presenza di detenuti eccellenti, le Luca Bagarella, Raffaele Cutolo, Francesco Schiavone, Felice Maniero. Nell'istituto sconta l'ergastolo anche la brigatista Nadia Desdemona Lioce. Nelle celle attualmente ci sono 159 persone, 12 donne tutte in 41 bis. La situazione è molto delicata ovviamente, nessuno dei sindacati di polizia penitenziaria parla, è una situazione gestita direttamente dal ministero, rispondono. All'Aquila nei giorni scorsi c'è stato però un grande fermento per la scorta, i carabinieri da quel che si sa hanno dovuto bonificare sia l'autostrada che la strada normale.